Questa mattina all'Università di Salerno si parla di sport e lo si fa con un olimpionico vincitore di una medaglia d'oro a Sidney, ovvero Pino Maddaloni, un momento importante per l'Ateneo Salernitano. Sì, è un piacere avere qui con noi un uomo che incarna quelli che sono i nostri valori. Da un lato lo sport, che è sacrificio, che è impegno, che è caduta perché nella sua carriera c'è stata anche questa, che è capacità di rialzarsi, che è competizione, che è successo. E dall'altro i valori umani, perché ovviamente lui con la sua figura testimonia quello che è la persona che riesce a coniugare il successo nella vita, nello sport, però ricordandosi quelle che sono le proprie origini, quelle che sono le difficoltà di un quartiere quale Scampia, che evidentemente anche attraverso lo sport può trovare occasioni di riscatto. E quindi che la sua palestra storica, diciamo, lì a Scampia, ha sempre rappresentato un faro di legalità, di giustizia, di impegno, di sport, di partecipazione. E in qualche modo questa sottolineatura va data. Portarlo qui da noi, oggi in questo incontro affollato con gli studenti di scienze motorie, è sicuramente qualcosa che fa piacere, perché vuole un po' ripercorrere le fasi della sua carriera sportiva, che hanno interessato anche, come dire, le televisioni di tutto il mondo. E al contempo però anche dire ai giovani che poi, attraverso l'impegno, attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, se uno vuole perseguire certi risultati ce lo fa. Ed è anche un modo per noi, per ricordare ancora una volta che cos'è lo sport per il nostro campus, per la nostra università, infrastrutture all'avanguardia, sulle quali abbiamo investito e continueremo a investire, utilizzando anche in parte, con fondi propri, quelle che sono le opportunità che derivano dalle universiadi. E dall'altro anche noi, lo sport è anche di scimina scientifica, perché è un corso, diciamo, all'avanguardia di scienze motorie, che ha attirato l'interesse degli studenti, delle famiglie e del territorio. È una testimonianza che averlo immaginato due anni fa di inserire la nostra offerta formativa è stata una scelta vincente. La tua testimonianza al cospetto di tanti studenti, qual è stato il messaggio che hai rivolto a loro? Che possono raggiungere i loro obiettivi e devono avere degli obiettivi. Oggi, per strada, fra i media, mi sembra sempre che in Italia tutto è più difficile, che è tutto falso, è tutto finto, c'è sempre raccomandazione. No, poniamoci degli obiettivi e magari realizziamo dei sogni. Ecco, un tuo sogno l'hai coronato con la medaglia d'oro a Sydney, quello probabilmente è stato il momento più bello della tua carriera, però c'è stato un momento difficile, soprattutto come l'hai superato? I momenti più difficili erano quelli che nessuno mi dava una mano, nessuno credeva in me. Era un bambino nato in quelle zone e non c'erano palestre. E allo stesso tempo anche chi mi incontrava diceva, ma dove vai? Il tuo tecnico non è uno famoso, non è uno che ha vinto. E queste per me erano delle coltellate. Queste erano delle cose che mi lasciavano veramente tanto amaro in bocca. E allo stesso tempo, però forse a oggi guardando indietro è stato il mio punto di forza. Perché dice qualcuno più esperto e più intelligente di me, dice tanti nemici, tanto onore. Io non vengo qui a insegnare a Sotogari. Io vengo qui a parlare di formazione, a parlare dei valori che mi ha dato lo sport. E grazie a quei valori oggi sono un uomo. Rispetto nel prossimo, rispetto delle regole, stringere i denti, amare il sacrificio. Se fai dei sacrifici dopo quando raggiungi degli obiettivi, dopo quando finisce la giornata sei contento. Poi il risultato può arrivare, non può arrivare. Ormai abbiamo tante di quelle frasi fatte, simpatiche, che a volte dico non è importante dove arrivi, ma è il percorso. Infatti stiamo attenti un po' a queste frasi. Perché i ragazzini ormai le sentono, dicono le stesse cose, ma chi dorme non prende pesce. Invece sono frasi veramente forti, però dobbiamo stare attenti a buttarle così, ma poi a spiegarle ai ragazzi. Perché veramente se già la mattina ti svegli un'ora dopo, cavolo, hai perso delle opportunità. Questa struttura è meravigliosa. Adesso tocca ai ragazzi, tocca ai protagonisti che vivono la quotidianità, a dargli energia, a farla correre. Io spero che ce ne siano sempre tantissime, dove i ragazzi ci possono entrare e dire, ma che cos'è? Che si fa? E conoscere sempre sport nuovi, conoscere altre persone, lo sport è aggregazione. Il mio obiettivo è passare i valori dello sport. E poi, ecco come ho detto, il mio obiettivo era quello di imparare. Poi dopo era di entrare in una squadra forte come quella della polizia. Quegli erano i miei obiettivi. Poi ho realizzato un sogno e questo speriamo. Nell'ambito degli incontri in cui si parla di sport ed educazione, una testimonianza di un campione olimpionico, medaglia d'oro, un momento importante per l'alternio saletano e per i suoi studenti. Sì, abbiamo fatto una scelta per creare, attraverso questi incontri, una palestra nella quale raccontare delle storie importanti che dimostrano che lo sport è l'esercizio della democrazia, della responsabilità, ma soprattutto è il luogo nel quale diamo corpo all'educazione. È una storia che racconta qualcosa che è accaduto, è fatta di comportamenti, atteggiamenti, condotte. E quindi per i giovani esiste anche un modo di educare, di formare, che è attraverso l'esempio. L'esempio di questi grandi atleti che partono dalla periferia di una città e restituiscono dignità alla periferia. È anche, penso, un pezzo importante del territorio che è il nostro territorio più ampio regionale. E questi sono gli esempi positivi dello sport sui quali stiamo lavorando e li abbiamo inseriti ed è questo il primo degli incontri all'interno delle nostre attività seminariali dei corsi laurei in scienze motorie della nostra università. Anche per dare senso al fatto che a Salerno le scienze motorie sono ancorate alla grande tradizione di Salerno pedagogica. Questa è un'università che si origina da un magistero e quindi abbiamo voluto onorare questa tradizione dando allo sport questa forma educativa. I ragazzi hanno avuto una risposta straordinaria. Stamattina c'erano 400 ragazzi interessati, appassionati, che sono adesso intorno al nostro atleta per fare domande, recepire. Lo porteremo dopo a mensa perché vogliamo che abbia contatti con i docenti che conoscano e anche verifichino quanto sia importante poi questo nostro senso di comunità, quello di Salerno, cioè un luogo nel quale la formazione la vivi nella quotidianità dei luoghi oltre che nelle aule, oltre che nella ricerca.